Ciao a tutti, ecco mi torniamo con un nuovo video, questo è un video un po' misto perché ho un po' di cosine da farvi vedere e da dirvi. Inizio subito ringraziandovi ancora tanto per le iscrizioni, visto che abbiamo superato i 400 iscritti, ho intenzione per i 500 giù di lì, di fare comunque un giveaway, quindi continuate a scrivervi. E poi ho anche un'altra sorpresina per voi, mi ha contattato il sito cinese BornPrettyStore e ho per voi un codice sconto, valido sulla sezione di gioielli e accessori, è uno sconto del 10% e basta scrivere diciamo nel carrello, a fine del carrello, il codice TOET10, ve lo lascio scritto qui, così. In questo modo appunto di 11%, vi consiglio di fare un giro nel sito che vi lascio giù il link perché ha tante tante cose carine, soprattutto appunto la sezione dei gioielli a cose carine, sfiziose a dei prezzi davvero bassissimi, quindi ve lo straconsiglio. Poi voglio parlarvi di un sito che ho scoperto la scorsa settimana che si chiama Crazy Factory, vi spiego. Io ho il piercing qui al trago, il mio ragazzo ha altri piercing, insomma ogni volta per comprare qualche pallina diversa, sfendevamo veramente troppo. Dove li trovavamo a meno era a Cliris, ma insomma anche lì 10 euro andavano, l'avevamo provato in gioielleria ma per una pallina a 2,50 euro mi sembra un po' eccessivo. Insomma abbiamo trovato questo sito, abbiamo fatto un ordine, ieri è arrivato. È arrivato tutto in questa busta, che tra l'altro è una busta di quelle palline imbottita e all'interno c'erano le cose che abbiamo preso, insomma. I prezzi sono davvero bassissimi, vi faccio vedere. Ah, il mio ragazzo ha preso le palline di diametro 4, non riuscivo a capire, e ha preso il pacco da 50 palline. Pensavamo arrivassero e tutte quante mischiate, insomma, visto che era un multipack di vari colori. Invece è arrivata questa bustina, con chiusura, con dentro altre bustine, con le 50 palline divise per colore. Ed è una cosa che ci siamo veramente rimasti perché è fatta davvero bene, le bustine si chiudono benissimo, quindi comunque non c'è pericolo che con la posta possano andarsi a perdere. Ve le faccio vedere al volo, ci sono queste qui che sono giallo fluo, queste sono blu scure, su ogni bustina tra l'altro c'è scritto il diametro, che vabbè, queste stanno multipack, erano tutte da 4, e la quantità, tipo, ti dice che di queste blu chiare ce ne sono 5, ognuna dice quante ce ne sono, comunque è ben fatto. Poi ci sono queste arancioni, queste rosse, queste nere, queste viola, queste che sono trasparenti e queste che sono un rosa molto chiaro. Voi direte che cacchio ci fate con 50 palline? Il fatto è che il mio ragazzo se le perde in continuazione tra il lavoro e cose varie, ogni volta ne perde davvero almeno 2-3 settimane, quindi praticamente comprarle sempre da Clilis o in gioielleria era un costo, effettivamente, e vi dico che questo qui veniva a 6€ e qualcosa. Allo solito la ricevo di là, vi lascio allora sotto comunque nel video anche i prezzi, comunque venivano davvero pochissimo. Poi invece ho preso per il trago, non so quanto se riuscirò a far vedere, sempre diametro 4, questa pallina che è il contorno trasparente e ha questo brillantino azzurro. Generalmente quelli col trago mi piacciono questi qua con il brillantino perché rimane molto molto carino e comunque l'ho pagata se non sbaglio intorno ai 50 centesimi. Eccola qui, come vedete è molto molto sbrilluccichina, è intorno tutta quanta trasparente e poi anche questa è arrivata comunque nella sua bustina. E poi, sempre per me, ho preso quello che indosso ora, che è il trago, che è la pallina con la perlina, che mi piaceva tantissimo. Ho provato a fare una foto per mettervela, ma dalla foto sembrava una semplice pallina bianca. Anche dalla fotocamera effettivamente non rende, ma io davanti ho lo specchio e è proprio carina perché si vede che è una perla e quindi rimane molto elegante, boh mi piace tantissimo. Anche questa è arrivata ovviamente nella sua bustina. Fate conto che, comprese di spedizione, tutte queste palline abbiamo pagato intorno ai 12 euro. Sono arrivate in una settimana, fate conto la mordinata mercoledì scorso e sono arrivate ieri, che era? Mercoledì, una settimana precisa. Quindi puntuali, precisi, davvero soddisfatta. Vi lascio comunque sotto il link perché mi è arrivata anche la mail che ci sono anche degli sconti. e non ci sono solo piercing, ci sono anche gioielli normali, qualcosina... Ah, ecco cosa vi volevo dire che c'era, che è una cosa che mi ispirava parecchio. Ci sono le labbra e gli rossetti tipo adesivi. Non so, devo prima documentarmi bene, magari se l'avete provato e sapete come funzionano fatemi sapere perché c'erano delle cose davvero carine e particolari, magari per dei trucchi un po' più speciali, insomma. Poi volevo farvi anche un mini mini haul, che ieri sono andata al mercato. Era tantissimo che non c'è andato e ho fatto degli acquistini. Prima o fra tutto è la maglia che indosso, che non so come farvela vedere. È una maglia beige a maniche corte ed ha tutto questo ricamo, diciamo simipizzo, di rose, beige chiaro e beige più scuro. Poi... E questa l'ho pagata 10 euro. Poi ho preso questa canottierina, semplicissima proprio, color fango, che ha ai lati, ha questi fiocchettini, ha questa arricciatura con il fiocchettino. Questa l'ho presa su una bancarella 5 euro. Poi ho preso questa collana doppia, cioè doppia che però è separabile ed ha un filo d'oro e un filo d'argento. E mi piace tantissimo abbinarla soprattutto tipo a delle maglie semplicissime tipo questa, cioè vedete da quel tocco in più. Ed è carina. Mi piace anche l'abbinamento con il bracciale che ho. E l'ho pagata 1 euro. Poi ho trovato anche qui le bancarelle con gli orecchini che vi ho fatto vedere nell'ultimo euro, ma questi sono ancora più fighi. L'ho preso in due colori. Uno è questo, che ha questo verde, ha la pallina più grande così in plastica e la pallina più piccola sempre verde con tutti i brillantini. E uguali li ho presi anche sul blu, con la pallina piccola blu con i brillantini e la pallina grande blu di plastica. Tra l'altro ieri li stavo usando mia madre e ha avuto una genialata, ha avuto una bella idea. Effettivamente io non ci pensavo. Oltre a fare vari abbinamenti come vi avevo fatto vedere nell'altro video, questi, specialmente insomma questi qui che sono belli sbrilluccichini, li possiamo indossare anche da soli mettendo dietro una semplice farfallina. Ed è come ho fatto ieri sera infatti mia madre. Effettivamente non ci avevo pensato. Queste sono le cosine che ho comprato, fatemi sapere se vi piacciono. Fatemi sapere se l'avete mai ordinato e se conoscevate questo sito dove ho preso i piercing. E soprattutto ricordatevi di fare un salto sul sito BornPrettyStore e vi lascio il codice. Ci vediamo al prossimo video! Ciao ragazze! Ciao! Ciao!